Carino, lo so che mi guardi, però questo ha detto un reparto, questo è pesce. Mi sono difeso, no? Questa è una volta che chiamo come mozzunette, anzi, che può sucianare l'appeniativo, Chef Tranchier! Allora, adesso noi sfinezziamo l'onata, perché tutti è l'onata, hanno tutti lo stesso pesce. E ricapiamo due filetti, capite? Poi guardate l'operazione e rifateli uguali, bene? E' la testa in allà, sociale, perché gli stavolano la sua parte. Ah, e un tesoro che ha innoo guardare. Ah, hai capito questo? Lo controlo, no? Si può vedere. Ho visto che trattare il Maiale che ha innoo è una roba erotica. E' fresco, è freschissimo, è freschissimo, questo oggi è la PAP, è freschissimo. Grazie a tutti.